Un nucleo di aria fredda in quota sulle Baleari in lento spostamento verso sud-est, unitamente al transito di un fronte sull'arco alpino, favorisce sull'Italia infiltrazioni di aria relativamente più fresca alla media troposfera, con aumento dell'instabilità. In Toscana, venerdì 27 maggio, poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, per nubi in prevalenza medio-alte. Nel pomeriggio, possibili addensamenti cumuliformi sulle zone interne, associate ad isolati e brevi rovesci temporaleschi. Venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature in ulteriore aumento, con punte di 34 gradi nell'interno e 30 sulla costa. Sul territorio provinciale, cielo generalmente velato. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 19, massima 34 gradi. A Castelnuovo-Garfagnane, zone montane, minima 16, massima 32. A Viareggio e sul litorale, minima 19, massima 30 gradi. Sabato, poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio, con possibili isolati e brevi rovesci temporaleschi sulle zone interne.